Una giornata speciale per il liceo Publio Virgilio Marone di Avellino. Questa mattina infatti è stata inaugurata la nuova palestra dell'istituto che ne andrà ad integrare l'offerta formativa. Non solo, è stata anche l'occasione per presentare la mostra dedicata alla storia delle donne nello sport olimpico curata dall'associazione Panatolo. Beh, prima di tutto devo dire una giornata veramente importante, un traguardo per questa scuola. L'inaugurazione della palestra permetterà alla scuola di completare quella che è la sua struttura. In particolare abbiamo ospitato questa mostra, la tematica sicuramente fondamentale, un argomento che noi trattiamo ogni anno con i ragazzi e quindi lo sviluppo, l'emancipazione femminile attraverso i giochi olimpici. Diciamo che nel nostro PTOF, nel piano triennale che abbiamo approvato l'anno scorso, è già a buon punto con i lavori della palestra e il pilastro è stato proprio lo sport. Quindi abbiamo dato largo spazio a quelle che potranno essere le iniziative sportive per valorizzare questo momento della crescita che è veramente importante. Altissima l'attenzione dei ragazzi che si sono esibiti in varie discipline sportive. Tutte le classi sono scese in palestra, guidati dai loro docenti e hanno interpretato queste foto che sono appunto sui pannelli della mostra. Hanno imparato tante cose, veramente sono stati interessati i ragazzi. Un augurio inoltre è arrivato anche dal senatore Cosimo Sibilia affinché in Irpinia sorgano altre strutture di tale livello che possano stimolare la crescita sportiva della nostra provincia. E vanno i ringraziamenti a coloro i quali hanno consentito che si realizzasse questa struttura, al dirigente scolastico, a chi l'ha preceduto, cioè a tutta l'equipe che ha consentito con i fondi europei che si realizzasse questa bella struttura. L'impiantistica sportiva è un grande problema, non di Avellino solo, ma di tutta la regione Campania. Io stesso partecipo il più delle volte a incontri con le amministrazioni comunali di Napoli, della provincia di Napoli, per cercare di alleviare questa difficoltà. Se pensiamo che lo sport in Campania, anche ad Avellino, ottiene grandi risultati con gli atleti, nonostante queste carenze di carattere impiantistico, noi dobbiamo essere ancora più contenti di avere questi atleti. Però rispetto a tutto questo dobbiamo tutti fare meglio, fare di più, però devo dire che le difficoltà economico-finanziarie ci sono tutte.